Il fegato svolge funzioni essenziali per la nostra sopravvivenza ed è quindi necessario averne cura. Lo stato dell'arte su questo tema è stato al centro dell'ottava edizione degli incontri della verità, organizzati dal professor Pasquale Berloco, direttore dell'unità di chirurgia generale tra pianti d'organo dell'Umberto I e dal professor Adolfo Francesco Attili, direttore dell'unità di gastroenterologia B. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.